Dai, dai! Vieni a giocare! Vieni a giocare! Grazie Pietro per questo gioco Reddit sta raccogliendo informazioni su Steam Per lo più Si certo, per lo più la valutazione degli utenti è positiva 12 utenti Gioco che si intitola? Death Stare Le scale della morte E adesso capirete anche perchè Allora, io prima ho preso La bravissima Fatina A sto punto io prendo il Mimo che è veramente triste Ah, il ruolo Gunner, ok Allora, cari ragazzi Questo è Death Stare, grazie ancora Pietro per averci dato questo Questo gioco che costa 12 euro E' bello, molto bello, mi piace Essendo un gioco che costa 12 euro Io mi aspettavo 12 euro Comunque Allora, adesso io sto a destra Ah no, io sono il corridore, non sono un runner Sono un Mimo Guarda quanto è brutto il mio Mimo Non posso manco vederla lì Allora, l'idea L'idea è questa Ma il primo è... Ok L'idea è questa Reddits deve cercare di... Si è superato già il primo Deve cercare di arrivare... Ah beh, ma io non sono pratico qua Ma nemmeno io lo ero Deve cercare di arrivare su evitando... Aia Vedete che se no... Si mettono anche delle mine in giro Si mettono anche delle mine in giro Aha Si... Aia Aha Vabbè, il gioco è questo Le scale della morte Questa è... Orca troia Praticamente... Cerca di venire avanti Ma queste scale sono più semplici E' tipo palla avvelenata, dai Puoi cambiare arma Si si lo so E posso tirare tipo il pallone grande Oppure martoriare No Intanto ho capito come evitare Ah si? Si adesso arrivo su Ah ma ho finito le cose Ciao Ma scusa ma qua finisco le robe Mi interessa Io sto andando su Ah! Pazza di merda Mi son distratto un attimo Mi son distratto Mi son distratto, si Dai, ultimo Sono arrivato Sono arrivato Oh, sono troppo sgravo No, mi ha preso Quanto cazzo è brutto il mimo L'ho detto già Aia Aha Vabbè Ma dove sei andato? Ah il mimo può andare nelle pareti No, il mimo Ci sono delle pareti Aia Ma queste balle giganti le devi finire Porca putta 65 c'hai ancora E dai che non posso nemmeno saltar Ma queste palle son deleterie quando arrivi la fine o Dai che c'hai ancora un minuto Ma è tontissimo Dai Non salta, non salta Che gioco di merda Ahahah Vai andare in culo Dai Ahahah E' fatto malissimo E' di predizione Guarda che la puttana Ahahah Ma 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 dai Ma è OP quest'arma Lo puoi ammettere per ricortesia Ma cosa, è l'arma del mondo Guarda là, 59 Dai, ma come si fa a passare In due persone sarebbe più divertente Sì, ma non c'ho, non c'ho potere Ah, posso fare il dash Eh, ma allora Ho capito adesso che posso fare il dash 10 secondi No, 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 6 secondi, 6 secondi Vai E vince, e vince A un secondo dalla fine Uff, oddio No, hai vinto tu Ho vinto io Ma io sono arrivato E se, beh, vaccato l'ercio e marcio questo gioco Probabilmente sono arrivato volando Dovevo atterrare per attirare il trigger Non lo so, però È un gioco brutto, Pietro Pietro, complimenti perché Però è divertente Allora, next round Oh, no, io adesso Madonna C'ho le palle della giustizia Ma io c'ho la strega, però Perché tu ce ne avevi 65? Oh, non spara Non spara niente Porco zu Zuzero Eh, sti cazzo di palle Allora, il comodo lo sta attendo perché Reddits mi sta mettendo le mine Ti faccio vedere quando sono belle stai palle No Te ne devi alzare Oh, ma perché mi fa viaggiare? Oh, madonna Che cosa? Ma colpito con la palla Ti rendi conto? Oh, ma perché tu ne avevi 65 roto? E guarda E' là Sono arrivato Ma è brutto Non si capisce dove spari È brutto Ma è fai Tu ce ne avevi 65 di palle Io ce ne avevo 20 Probabilmente perché tu hai fatto mimo Ah, no, mo ce ne ho 15 Poi che io però Ah, all'inizio ne mette 15 Ah, vabbè Praticamente all'inizio devi correre come una bestia Donna Ma che sei io? E' bellissima la mina perché ti fa saltare Sì, sto cavolo mo ti faccio Non c'è un modo per accelerare Non c'è niente Sì, con il grilletto destro Ah, sì? Mi pare di ricordare Donna, con due cose Ah Eh, vabbò Mo ho imparato il dash Della, della, della vita Proprio E dai È bellissimo Quelle palle Sono fastidiose Ma veramente Sono fastidiose Pure quelle rosse però Quelle forse sono più veloci Guarda quanto spammi Ho combinato diversi cose Porca troia Guarda la miseria E noi ha Ma se è compenetrato contro il muro Ma dai Ah, perfetto Wow Ma cosa? Ma se Ma dai Ma, ma scusami Ma, ma, ma Ma solitamente Quando ti rialzi Sai la La cosa Mi morì Devo risalire 2000 piani qua Comunque È brutto Come dici? Porca puttana Ma scusami Ma poi Uno Tu Quando io Atterro Mi puoi rimanare È fastidiosissimo Perché mi rimandi Troppo indietro Ma, ma, ma Quello è il punto Cioè io devo farti Perdere tempo Perché se tu Eh, guarda Se tu fai le cose Troppo veloci Oh, ma perché Non si rialza Ma che cazzo Guardalo là Come Guarda come giulivo Che saltella Ma poi non devi arrivare Manco sul piano Cioè qua Devi essere brava A spammare Questo cazzo di tasto Cioè Cioè 98 palle Ma io quando passo Ma perché Quello ogni volta Che ti colpisco Raggruppo Capito No Guarda Cioè Madonna Il fastidio Quanto cazzo È brutto Sto gioco Quanto è brutto Pietro Questo gioco è brutto Non ci giocherà mai più E porca puttana Fa ridere un sacco Ma è fastidioso Perché è un po' fastidioso Cioè forse In tre persone Cioè Tre che salgono Forse è più Più divertente Immagino Uno spara Tre salgono Ma non so Se ci sia un gunner solo O tre runner Due run Non lo so Tre gunner Sì Tre gunner contro uno Come passa Quel povero Cristo Giustamente È impossibile Già così È sbilanciato Come la merda Grazie mille amico Questo è Un piccolo gioiellino Ma no Ma è un piccolo La merda Grazie per aver speso Questi soldi Per noi Però è un gioiellino Grazie mille amico Grazie mille amico Grazie mille amico Grazie mille amico Grazie mille amico